E stiamo con l'assessore Alessandro De Linoci, assessore alla Comune di Lecce. Anche l'assessore De Linoci ha scelto e a dire sì alla persona della campagna nazionale di sensibilizzazione per la riflessa delle donne, noinò.org. Grazie mille, assessore, come mai questa scelta? Come amministratore, come assessore, come io, Giovannini, non do l'obbligo di sensibilizzare che i bambini, i bambini, la cittadinanza, la Bers, una tematica, una cosa importante, una tematica che spinge, che deve educare i giovani a non avere le donne, a rispettarle, a considerare le campagne di vita, le campagne di viaggio, le campagne di lavoro. Cosa hai sentito di dire alle nuove generazioni che dovrebbero essere sensibilizzate maggiormente questa cosa? Purtroppo spesso vedo tante figlie di ragazzi che utilizzano il loro soggetto, che utilizzano le donne di violenza e la nuova tecnologia spesso spinge i ragazzi, anche esagerati, a spingersi a condividere dei video in cui le donne sono meglio certi. Allora, dobbiamo educare i giovani verso un uomo, noi vedere il corso, il modo di considerare le donne come le due campagne di vita e come una parte importante. Assessore, oltre ad essere uomo, figlio, marito, papà, cos'è la donna per lei? Papà della bambina e per me la donna è il tutto, la donna è un compagno di vita, è anche la nuova essenza della mia vita, è l'essenza della mia nascita, la donna per qualsiasi uomo è qualcosa di fondamentale, senza la donna non è nessuna parte, è una parte di noi stessi, ma è noi stessi. Ecco, l'assessore De Bino ci viene a un appuntamento, il D25 novembre, proprio all'officina di Cantermo, dove ci sarà la tavola rotonda per il lancio della campagna nazionale Noi No.org che approda nel Salento ed insieme diciamo Noi No.org. Noi No.org. Grazie, sessore. Grazie. Grazie.